entri eh si infatti farò manlop devo fare pure io così mi sa che stanotte la lascio hai rotto la rippolla cioè lo sai come sento era francia abbraccio ti senti attenzione in alto riscaldatevi finché potete presto entrare in azione ci sono ci sono sai che essendo ora al braccio e fra come se avessi una sorta diciamo perenne una distorsione per l'ermattino è quello che è successo i cani guarda che un trauma quello che hanno fatto che odio fantastico beh sì meraviglioso ascolta è l'unico pacco di le cuffie che erano un pacco esatto mandalo in garanzia benji mandalo in garanzia non mi sentite bene ora sentite bene l'ho pagata anche carica su quelle della sony e lo so ma non mi sentite bene a tratti bene a tratti no adesso come sentite ora bene però alcune volte ti sentiamo come se fosse il microfono diciamo disturbato ecco come a me è disturbato come bene anche me come se sgranasse come se sgranasse andiamo meglio stavamo giocando bene dobbiamo stare vicini vicini e se non te ne vai ma non è che ti sono cadute queste cuffie ma no la seconda volta sono andata via infatti la seconda volta sono arrivati i secondi no non eravamo i secondi c'è gente sopra gente sopra ma noi andiamo sotto noi andiamo sotto sotto è felato ok ti posso dirà polvere quando possa benji ok i miei riflessi felini non funzionano funzionano non funzionano questo è meglio un amore mio dimmi no stavo parlando con la malocchia che mi ha rubato io mi sono mai ma fottuta l'arma questa è buona però sì infatti a questo arrivato veloce come un fulmino boh puciamo saliamo sì diciamo eh sì che facciamo facciamo eh sì sì che facciamo no sediamola alle scale che ci sentiamo migliare il bar un nemico distrutto un nemico distrutto un nemico distrutto ci sono marcati sulla mappa tattica tocca un nemico distrutto c'è questo via se non è già su eh eri lasciare l'ascensore uavvio stile attivo uno l'ha fatto eh arrivano vado pazzia di vabbè vado e guarda che non riesco ad entrare wow ninja quanti sono sotto raga beh beh tutti quelli che sono proprio su tessuto dove sei il figlio di buona nonna vieni vento benji ce ne ha uno io l'hai fatto si sono sotto benji vedi che sono sotto vediamo sotto benji è sceso qualcuno mi sa si c'è un altro e sopra sul tetto wow 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 benji mi sono incassato basta che ci decidiamo sotto sotto poi è uguale sotto c'è ne uno per forza che l'ho visto aspettando attenzione ne viene arrivo ridurrà la visibilità affrettati verso la zona sicura tutto qua ci sono io e non c'è nessuno per un momento eh eh ma l'ho vista da qualche parte a mano che non è uscito a meno che non erano pieno di sopra qua ora come su eravamo noi ma ancora mi ha chiuso qualcuno sul tetto vieni 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 uno sul tetto c'era quando si è atterrato eh ero avvistato come hanno fatto avvistarmi guarda ah ecco il progetto il progetto il progetto c'è il tutto c'è il 유 weas e morirà nel gas ma mori anche tu con brava brava arrivo ma quello di andate credo di riuscire ragazzo non ha fatto il gas dobbiamo fare scappare un lode però si trova lontana quasi ben di cia no nasconditi che lo ergo gas non mi avessi sparato che pezzo di merda torino alla parte mia d'acqua mia d'acqua ragazzi mi sto da quando fai il fuoco della situazione semmo non mi fanno qua non sotterraneo che di solito c'è sempre c'è sempre i camberoni qua ben di veloce perché c'è gente sopra col tetto facciamo un po di munizioni e poi andiamo dai come si è anche di piastre avani vuoi di casa a bordeaux ci vediamo a fianco la te lo dico già come sali su c'è gente devo scendere quindi guarda andiamo dai caro vaffanculo a terra e pushando e sarà bagatto fatto ho fatto uno sul tetto e mi dà fangente e adesso arrivo da qua e non ti incazza oh mamma mia mi dà lì si è incazzata oh mi pingano arrivo da voi ho visto c'è un cecchino occhio si mi pingano da tipo ogni lato è la eh Icaro c'è sorgendo dietro si si sto salendo devo mettere quell'unica povera piastra che ho te la porto io la piastra Franci occhio lì Franci vai Icaro andiamo a farci quello Icaro oh da l'avevi stato salendo raga la possibilità sarà compromessa bastardi maledetti dovete morire male voi ho il mortaio eh voi il mortaio le morta ci può stare il mortaio che cazzo comunque anche oggi mi allena domani mi so ma finisce sta mortaio che cazzo hai due piazza dove siete? non ho nulla te la vuoi trovarla qua ma dove siete? che non vi riesca a vedere stanno salendo Icaro stanno salendo Icaro tu devi capire che quando io sono a 3000 aaaaaaaaa eh passiamo da sotto Franci dai Icaro scendi Icaro 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 andiamo in stessa Franci se non ci sarà più si non le avevo viste nemmeno io le piastre se le sono mangiate tutti sento passi aspetta un attimo una piastra sento ci siamo in pieno cosa aperto eh andiamo con la con la smoke via soldato nemico in arrivo un compagno è tornato in squadra bene ci troviamo a market ci troviamo a market ci troviamo a market quindi vengi eh poi hai bisogno di una cazzo di piatta mi pingano aaaaaaah qui ce l'è una una perra se vai in santa avessando proprio sulla tua estapa nel giri vabbè ti dà o no ti dà o no yes sappiamo dove sono gli altri hanno qualche arma si strozi si 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 occhio sopra occhio sopra occhio sopra eh non mi piegare le mie quelle rosse ma non ci ha preso mi prendo sto ma no io non la vuoi l'acqua ma con l'utente no no me l'ho preso io l'acqua non c'è una cazzo di stunno no occhio e ce l'hanno sopra allora è la è la è la merda un resto uno copre da solo quel coglione uno copro un'oressa raga uno copro uno resta se l'ho capito però non ho ho fatto io 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 tranquillo grazie arrivano eh sta minor angola morto qua ragazzi muoviamoci da qua se no guarda avete visto la mia bella ma mi sei che l'ho buttato io a terra ora in piastro e ce ne andiamo in safe va bene adesso puoi le scale sono tutte le dentro occhio ma le mosse sono su e giù sono scesi nooo, no, 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 no cazzo no guarda, muoio muoio, 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 muoio vado in safe, io mi butti in acqua muoio faccio il fuoco ma dai si ferma faccio il fuoco usare in acqua raga no, io sono morto perché mi ha abbandonato è perché li avevo dietro benji ero completamente da solo è fatto bene ecco l'ho fatto bene ecco l'ho fatto bene ecco l'ho fatto vedi vedi ecco l'ho qua in acqua da me ah, quale è bagato sono in arrivo ecco l'ho qua in acqua vabbè farà wow dove fannoci cos'è? i prego dove? che aveva quello spagnolo è la puglia dove è? 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 no ero una kill da record ero una kill da record ero una kill dal record non ci credo non ci credo non ci credo non ci voglio credere era una partita da record ah ah ben ma come ti trovi con i testi impostati in un altro modo? fantastico